Amici e amici, ho questa sera di nuovo il piacere di avere accanto a me il maestro Jacopo Sipari di Pescasseroli, direttore dell'orchestra sinfonica Marco dell'Aquila e poi ho il piacere anche di avere qui accanto a me il dottor Umberto Masci, che è l'organizzatore di questo evento così straordinario. Allora, una preghiera per l'Aquila? Ma una preghiera per l'Aquila è nata due mesi fa parlando con Jacopo. Ho visto un certo malessere interiore in Jacopo e non riusciva a capire da cosa fosse dettato. Lui mi ha detto, sai Umberto, tra poco ricorre il quinto anno del terremoto all'Aquila e mi dispiace veramente tanto non poter offrire alla mia città un grande concerto, una preghiera per una città che non è morta, è rimasta ferita e deve assolutamente tornare a splendere come una volta sulle vette della dignità umana. Ed è per questo che ho detto a Jacopo, guarda Jacopo, accetto una sfida, cercherò di organizzare con te questo concerto, anche perché io domattina compio 60 anni, quindi mi sembrava giusto anche accettare una bellissima sfida. E ringraziando Dio perché le vie del Signore sono infinite e ci siamo riusciti. Grazie. 6 aprile 2009 e 6 aprile 2014, appunto dicevamo 5 anni dal grave terremoto che ha colpito la tua città. Quali sono i ricordi di quei momenti? Beh, devo dire che oggi mentre facevo la prova ero emozionatissimo, mi veniva da piangere, poi dopo le parole che adesso ha pronunciato Umberto veramente mi è risalito su un po' l'emozione che abbiamo provato quel giorno quando ci siamo accordati e soprattutto il ricordo di quella notte che è stata una cosa devastante che ha cambiato radicalmente il corso della mia vita, della nostra vita, ma credo dell'Italia intera. È stata una tragedia unica di proporzioni inimmaginabili che non si è limitata a distruggere poi quelle che hanno le case e i palazzi che alla fine si è vero si ricostruiscono, ma l'anima e la dignità delle persone. E quella sicuramente è molto più difficile da ricostruire. Quello che noi ci siamo prefessi ovviamente questa sera con il caro Umberto è quello di fare quello che forse ci riesce meglio, magari musica, un'ora di musica, nulla di più, ma che fosse veramente un'espressione di gioia e che in un certo senso significasse da una parte il ricordo per le vittime e per coloro che ci hanno lasciato e dall'altra parte una preghiera e un invito forte per noi che siamo ancora qui, perché la nostra città torni a volare e perché veramente la speranza non ci abbandoni mai. Dottor Masci, come diceva il maestro Coposipari di Pescassero, lì un invito. Qual è l'invito che questa sera volete rivolgere a tutti coloro che parteciperanno? Ma secondo me è un grande invito di riflessione per quanto riguarda la città dell'Aquila, come diceva giustamente Jacopo, l'Aquila deve tornare a volare. Questo è l'invito che io rivolgo a tutti, è una preghiera, un grosso momento di riflessione per noi tutti. Jacopo, la dignità degli aquilani è indiscutibile, hanno pensato subito a ricostruire, quindi non si sono come al solito magari abituati a piangersi addosso. Che cosa ci farei a ascoltare questa sera? Guarda, questa sera noi abbiamo scelto forse il pezzo più bello, ma iscritto, quantomeno quello più ispirato, Requiem K626 di Wolfgang Amadeus Mozart, che è appunto forse il pezzo che maggiormente significa questo, una speranza di rinascita, allo stesso tempo voglio di ricostruire. Io vorrei specificare una cosa, questo concerto è un concerto pubblico, è un concerto aperto a tutti, perché quello che vogliamo fare noi è regalare un concerto a chiunque voglia appoggiare questo progetto di rinascita. Abbiamo scelto la cattedrale di San Giovanni in Laterano, non solo perché ovviamente Caput Mundi, quindi ha un significato diciamo tra virgolette cristiano, ma perché è tra le più grandi in assoluto della cristianità. Quindi un po' c'è questa idea della volontà di abbracciare quante più persone possibili, che siano con noi vicino, vicino alla nostra città e vicino ai cittadini. Poi abbiamo questa guest star questa sera, che è la bellissima Simona Molinari, che aprirà il concerto con uno dei pezzi più belli che appartengono al suo ultimo CD, a Rose Oman Gathorn, e che è ispirato su un tema di Ennio Morricone, quindi vi lasciamo la sorpresa, ma possiamo semplicemente indicare che sarà sicuramente uno dei pezzi forti della serata. E noi naturalmente che cosa dirvi, in bocca al lupo per la serata e ci auguriamo che sicuramente ci sarà un successo e ci sarà il pienone come sempre. Ce lo auguriamo, ce lo auguriamo. Grazie. Altro che grazie a lei. Grazie davvero. Grazie a tutti.